1.049 sanzioni amministrativi, 84 notizie di reato, 27.329 controlli sia a mare sia a terra, 38 unità da di portosoccorse, 182 persone salvate e assistite. Sono alcuni dei numeri dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2024 che ha visto impegnati lungo i 1000 km di costa pugliese ogni giorno 200 donne e uomini del corpo delle Capitanerie di Porto. Negli uffici marittimi Mare e Impattuglia a terra con l'obiettivo di garantire sicurezza a bagnanti e di portisti, l'impegno del corpo anche nei contesti lacustri, oltre 3.300 e i controlli su spiagge libere in concessione che hanno portato a 54 verbali amministrativi per violazione dell'ordinanza balneare e al sequestro di aree demaniali e attrezzature, trasdraio, lettini e ombrelloni, restituendo così a libera fruizione circa 5.500 m2 di spiaggia abusivamente occupata. Il bilancio dell'operazione Mare e Laghi Sicuri iniziata il 16 giugno è stato tracciato dal contramiraglio Vincenzo Leone. L'operazione quest'anno l'abbiamo doverosamente chiamata anche Laghi Sicuri, è stata intensa, è stata appassionata, è stata anche caratterizzata da piacevoli novità. Le piacevoli novità sono state queste, siamo riusciti anche grazie a una sperimentazione che stiamo conducendo insieme al Comando Generale, proprio in quest'area marittima, ad incrementare la nostra presenza in mare e lungo le coste. È uno sforzo molto importante che ha prodotto maggiori controlli. A fronte di questi maggiori controlli le infrazioni rilevate sono diminuite. Grazie. Grazie. Grazie.